proviamolo subito se non dovesse funzionare vi giuro mi arrabbio perché ho speso un sacco di soldi per queste foglie d'oro apriamole ma è solo una è costato tantissimo ed è solo una io scioccata il nostro glossettino bellissima che ha dentro mischiamo dobbiamo tipo triturarla perché si deve fare mille pezzettini piccinissimi raga ma è bellissimo io innamorata speriamo sia bello anche l'effetto proviamolo subito vi giuro se non funziona ho rovinato un gloss e basta mi arrabbio che labbra preziose adoro